Eccomi di nuovo con voi con un video tag molto carino Allora questo video tag si chiama praticamente il libro risponde Allora in che cosa consiste questo taghino carino caruccio Allora praticamente voi dovete prendere un libro trash che avete nella vostra libreria E alla domanda aprirlo no? Aprire il libro, vedere la parola e quella parola risponderà alla domanda Io ovviamente il libro più trash che ho in libreria E ovviamente after, ovvio Dovevo anche dirvelo, bene Vediamo cosa dice l'oracolo qui L'oracolo sta merda, sta minchiata, che schifo Mi sto sacrificando per voi Allora prima domanda Quale parola indica la tua personalità? Allora apriamo il librone Questa parola qui Eccessiva Sì, a volte posso essere eccessivo in alcuni comportamenti Tipo sono una persona molto aggressiva Ma aggressiva nel momento in cui mi si viene attaccato E quindi sì Potrei essere eccessivo in alcune cose Sto intendo in sintonia con questa merda, è grave? Allora domanda 2 Quale parola indica ciò che desidero? Allora arriviamo in fondo Prendiamo questa qui Ridere Sì, desidero ridere, è vero Perché comunque nella vita penso che la risata sia importante È importante anche a ridere Poi soprattutto in questi mesi che ho passato cose difficili Ho passato situazioni difficili Penso che ridere sia proprio il sale della vita O della terra, come diceva Liga Bue Andiamo avanti Ho il mio cellulare Che vado Questa parola la dedichi ai tuoi amici Allora vediamo quale parola Adesso andiamo verso la fine Parola dedichiamo Vado Qua No, male, no Male ai miei amici No, no, assolutamente No, no, zero No, male, no Vabbè È una Male nel senso che Spero che tutti i vostri mali Vengano Vengano Nel senso vengano risolti Allora Quale parola indica la tua sfera sessuale? Andiamo all'inizio Giro pagina perché mi è più congeniale Questa Turno Sono un turno Sì, come no Sono un turno Vabbè Domanda 5 Quale parola indica ciò che non ti accadrà mai? Prendiamo uno col segno Questo qui Che è già segnata Parola Acqua Mento Ah, mento nel senso di mentire Non mi accadrà mai di mentire Eh, boh, speriamo Speriamo Domanda 6 Quale frase sogni di tatuartela? Oddio Qui Dicevamo Dicevamo quale frase sogni di tatuartela? Scusate un secondo Partiamo qua Nonno, so che sta affrontando la cosa nel modo sbagliato Ma non è solo arrabbiata perché tu, beh sai Perché tu stai con lui Ma è abbastanza caruccio come frase Pensavo Quella frase tipo Muoveva Lo muovevo con il dito San Perdova Ah, andiamo avanti Eh, quale frase è quello che faresti In Che faresti in cambio di ricchezza immediata? Il professore comincia la lezione Distribuendo il programma del semestre si presenta Racconta Come ha deciso di fare quel lavoro E ci parla della passione per la letteratura Quindi in cambio della mia passione per la letteratura Rinuncerei dei soldi Bah Boh 8 Quale frase la userai per abbandonare? Andiamo verso la fine perché Le fine sono le pagine più trash Ma tutta questa gente No, vabbè Ah no Per abbordare Ma tutta questa gente Io ho detto abbandonare Sì, vabbè Ma tutta questa gente Addirittura Come per dire Ma tutta questa gente Mi fa il filo Andiamo avanti Quale frase rappresenta il tuo futuro? Prendiamo questa qui Questa segnata Non siamo poi così diversi Non siamo poi così diversi Boh Tagga tre persone Dedica loro La nuova frase selezionata Allora Tagguo La Cronorg Books La che saluto caramente Vediamo quale frase Dedichiamo Ricordo che l'ultima volta Mi ha osservata Mi ha osservata Per tutto il tempo Mentre vedevo il film Poi Taggo Il caro Sebastiano Di Aranciuni Letterari E a lui dedichiamo Questa frase Una sorpresa molto piacevole Non mi era mai piaciuto Così tanto E L'ultimo 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 Mi piacerebbe Taggare Vediamo un po' Vediamo Un po' No pensi di sapere L'ho già fatto Vediamo un po' Le mie reminiscuenze Ah la Books E il lipstick La Oh signora La Roberta Roby ti dedico questa frase Aspette Allora Come ho potuto essere così spietato Il tag è finito Io vi saluto Però oltre alle persone che io ho taggato Lo possono fare tutti Non è che Non vi vergognate Vi manda Ricordatevi che mi manda lo Zerubi Io saluto tutti i miei bogongini Che sono diminui Che sono aumentati Speriamo di arrivare entro Natale a 300 Vi saluto Vi do Un bacio La prossima volta non mi vedrete in nero Non vi preoccupate Io vi saluto Vi mando ancora Tanti bacini Col cuore Perché vi voglio bene col cuore Ricordatevi col cuore Alla prossima E grazie per la visualizzazione Alla prossima